Nel taoismo il concetto di entità suprema non si identifica con un dio giudice che osserve il mondo dall'alto, ma si identifica con un'energia pura che pervade l'intero universo, la natura. Il motivo che ci spinge fin laggiù è testimoniare l'esistenza di un fenomeno naturale descritto solo poche volte in più di duemila anni di storia. Comandante! Finalmente la tua curiosità ci porta lontano, un uomo che non è curioso è un uomo morto. Donne sul ponte, vai all'orizzonte. Se hai gli stessi anni della barca te li porti bene. Sulla galette la natura si ripela. Uno e tre e io ti mangio. Sì, è tipico di quelli come te, li che hanno sviluppato poco il cervello e anche scarse capacità relazionali. Perchiamo acqua! Dai, levati! Levati! Bruno! C'è il fenomeno! Non sono niente! Non lo so! E se davvero noi troviamo quello che stiamo cercando, il mondo per come lo conosciamo cambierebbe radicalmente. l'unico desiderio che ora è arrivare lì. L'unico desiderio che ora è arrivare lì. La nuova è arrivare il nostro corso di più! La nuova è arrivare lì. Salome di più, è il fenomeno, ma non è l'unico desiderio delle varie. C'è il fenomeno che ora è arrivare lì. L'unico desiderio che ora è arrivare lì.